Quella dell'istituzione, poi della pratica annuale, ormai decennale, le borse di studi, la concessione di borse di studi, dei migliori diplomati, degli istituti superiori, non solo in autici, di Messina e non solo di Messina, ma di tutte le città dove ci sono porti, che noi scaviamo con le nostre dati, è una delle modalità di declinazione della responsabilità sociale d'impresa che il gruppo Caronte Turist continua a praticare. Investire sulla formazione è sempre un investimento che ha avuto oggi, mi si chiedeva se immaginavamo che questo investimento possa fare restare in Sicilia, restare a Messina i giovani premiati. In realtà il lavoro dei marittimi è un lavoro che ti porta sempre e comunque in giro per il mondo, noi possiamo solo augurarci di esportare professionalità, poi a funzione del caso, di invitare questi ragazzi a tornare qui per mettersi in gioco e darci una mano a proseguire e poi a tornare qui per mettersi in gioco e darci una mano a proseguire.